Riccardo Haut, tu fai un mestiere meraviglioso, sei uno dei capi o sei capo di Will Media che per chi non lo conosce è un'attestata, un nuovo media che là fuori ha conquistato la maggior parte dei giovani adesso non più solo i giovani che cercano informazione immediata, comprensibile, capace di divulgare qual è la ricetta, se c'è una ricetta e se non è segreta come quella delle bevande frizzanti e che cosa state sperimentando? Vediamo se funziona, mi piacerebbe avere un ingrediente segreto così da poter replicare tutti i giorni basta mettere un po' l'ingrediente segreto della Coca-Cola e poi viene sempre uguale invece è un casino, tutti i giorni è un grandissimo casino colgo però l'occasione per portare i saluti anche dell'altra persona che con me guida Will e Cora che sono adesso diventato un'unica società ma due brand che è Mario Calabresi che conosce questo luogo benissimo e che poi ha guidato per anni la stampa anche lui e quindi insomma molto legato a questi luoghi e anche a questi temi come si fa? Come si fa a comunicare e a rendere talvolta anche virali questi contenuti contenuti che sono complessi? Devi spiegarci la parola virale Esattamente, non c'entrano virus, esattamente non c'entrano pandemie c'entra invece una grande volontà per delle persone, soprattutto le persone più giovani noi abbiamo una comunità oggi che ci segue divisa fra le varie piattaforme social e non di circa 2 milioni e mezzo di persone l'80% di queste 2 milioni e mezzo di persone sono fra i 20 e i 35 anni l'altro 20% è invece un po' più grandicello stiamo felicemente invecchiando siamo contenti di tutto ciò perché quello che ci hanno sempre detto è considerando il cambiamento climatico peraltro uno dei pilastri centrali del nostro media abbiamo detto questo non deve essere e non potrà mai essere il media dei giovani per i giovani nella retorica del io sono generazione Z e tu sei boomer, tu non capisci, io capisco no, perché in quel modo lì non arriviamo da nessuna parte soprattutto in un paese che ha una piramide demografica un filo ribaltata per cui giovani per i giovani, bello, ma ci chiudiamo in un recinto e non contiamo niente purtroppo i numeri questo ci dicono e quindi ci hanno sempre detto proviamo a fare da cerniera generazionale e come facciamo, come facciamo la prima cosa che ci siamo detti per quanto riguarda la parte di cambiamento climatico è stata quella di capire che è un argomento estremamente polarizzante e che spacca in due le generazioni c'è poco da fare, i dati ci dicono che le persone che hanno più di 50 anni interpretano questo tema in media in maniera molto diversa da chi ne ha meno di 30 di over 50 con l'ecoansia sono in pochi di under 30 con l'ecoansia sono invece in tanti e in tante e questo cosa vuol dire di nuovo? è uno scontro generazionale oppure c'è modo di creare un ponte? da lì abbiamo deciso sin da principio di non dare spazio eccessivo benché talvolta magari possiamo anche condividere i messaggi di chi vede diciamo il tema del cambiamento climatico come una bandiera e una battaglia io posso rispettare quella battaglia ma dico non è il mio mestiere il mio mestiere è di fronte a un mondo che è sempre più complesso è sempre più veloce e quindi genera paura da una parte o dall'altra paura che può essere conservazione o paura che può essere invece sfogata in aggressività come talvolta giustamente mi sento di dire anche i giovani rispetto al cambiamento climatico si muovono e quindi devo fare consapevolezza l'unico antidoto rispetto a questo mondo che è sempre più complesso sempre più veloce è consapevolezza se tu non sei consapevole sei un animale impaurito l'animale impaurito è un animale irrazionale per definizione prende delle scelte subottimali da tutti i punti di vista e quindi abbiamo detto ok come facciamo con il cambiamento climatico come facciamo? ah giusto c'è la scienza c'è la scienza la nostra comunicazione il cambiamento climatico è una comunicazione all'80% basata su una comunicazione di dato una comunicazione fortemente scientifica un invito all'educazione al dato scientifico e quello non divide quello non polarizza poi c'è anche chi si accapiglia su quello però rispetto a tutto il resto della comunicazione che tocca questi temi è incredibile l'efficacia che ha come messaggio di fronte al quale più che ritrovarsi per litigare ci si ritrova per discutere per provare a capirci qualcosa di più e genera, questo cinicamente lo dico per noi perché così abbiamo messo in piedi un'azienda anziché generare in gergo si dice un flame sui social flame è quella cosa che brucia un fuoco di paglia che brucia fortissimo e porta delle interazioni gigantesche nel giorno in cui tu pubblichi quel contenuto magari un po' click byte però poi sul lungo periodo non genera valore se tu invece crei consapevolezza e più che risse giocando con gli algoritmi perché gli algoritmi sono trementi gli algoritmi fomentano spesso e volentieri la polarizzazione dell'opinione ma tu invece generi confronto ti renderai conto di quanto la gente oggi soprattutto oggi abbia una gran voglia di confrontarsi di confrontarsi e dicono ehi ma io mi vengo a confrontare da te cerco te come spazio quindi da qua il cambio anche no rispetto al media tradizionale non abbiamo di fronte a noi un audience non è un pubblico a cui vendere immediatamente qualcosa è una comunità di persone che si confronta una comunità di persone, aziende, istituzioni le tante istituzioni con cui noi lavoriamo e questo magari giorno per giorno immediatamente non crea quelle fiammate che talvolta internet è in grado di generare e chi lavora su internet le cerca quelle interazioni perché possono voler dire ritorno economico per noi come al solito la scelta è fra breve periodo e lungo periodo medio periodo diciamo così visto che esistiamo da quattro anni lungo periodo ancora mi piacerebbe averlo ma ogni mese dico vediamo come va a finire e però in qualche modo in qualche modo ce la si fa ce la si fa e si riesce appunto a creare questo ponte tra questi due mondi eco indifferenti e eco ansiosi e l'idea è proprio di provare a metterli sempre costantemente nella stessa stanza e farlo dove? per noi diciamo che la domanda non si è posta per noi il tema è non giudichiamo non diamo un giudizio di merito sulle piattaforme c'è chi dice anche ma no perché è impossibile portare messaggi complessi in quel luogo specifico il tiktok di turno o quant'altro ma come dicevamo ieri ieri sera a cena queste piattaforme non si discutono chi prova a discutere una piattaforma fin tanto che adesso gli americani non la banneranno ma chi prova a discutere una piattaforma dove 21 milioni di italiani passano il proprio tempo e che cresce decine di punti percentuali mesi su mese e limitarsi a dire ah ma quella piattaforma lì no quella piattaforma lì è la realtà punto per metà circa del paese io provi a giocare con le regole di quella piattaforma che un giorno si chiama tiktok un giorno si chiama instagram un giorno si chiamano i podcast dove noi siamo leader in Italia oppure decidi semplicemente di fare una battaglia di conservazione invece la nostra idea è stata quella di dire proviamo ad andare lì proviamo ad andare lì anche dove sì ci sono i balletti anche sì c'è chi fa il pane anche sì c'è Chiara Ferragni che ti consiglia un vestito e noi lì in mezzo a dire l'energia nucleare può essere la risposta a parliamone ed è incredibile di come questa cosa funzioni funzioni noi abbiamo creato un'azienda siamo partiti in cinque ora abbiamo 110 dipendenti e le persone cercano cercano tantissimo adesso non voglio fare quei discorsi da giovane vecchio quale sono che i corpi intermedi non ci sono più ci sono delle nuove formule di incontro fra esseri umani il digitale è una chiave per farli incontrare sicuramente gli esseri umani poi la parte fisica gioca ancora un ruolo enorme per noi la parte di eventi è straordinaria per cui magari ti prendo con un dato ti prendo con un linguaggio magari talvolta accattivante gioco con le regole della piattaforma gioco con i meme un meme può essere uno dice no fate i meme quindi state facendo cagate no no io ho delle persone che rischiano di essere tagliate fuori dal dibattito trovo un modo per agganciare l'attenzione di quella persona e poi portarla accompagnarla gradualmente non so un carusello che sono queste questo format di instagram per cui una serie di immagini che si seguono e parto da un qualcosa che prende la tua attenzione e poi arrivi fino all'ultimo dato dell'ARPA all'ultimo dato dell'agenzia europea per l'energia e l'ultima cosa che posso dire in un luogo come questo dopo una giornata come questa è anche l'importanza di fare una comunicazione questo sicuramente è il nostro segreto fare una comunicazione che abbia ben chiara le grandi sfide globali quello sì ma con quelle non ci campi o meglio se tu continui a ripetere solo all'infinito che secondo gli ultimi dati dell'organizzazione internazionale che se siamo più vicini a raggiungere il grado e mezzo di riscaldamento rispetto all'era preindustriale la gente fa una vita complicata tutti i giorni ha un sacco di problemi nella sua vita e il dato globale è lontano io devo trovare ogni giorno ogni mattina ci sfracegliamo la testa per riuscire a riportare quel dato nella tua vita e quindi parliamo delle isole di calore nelle città parliamo delle soluzioni per la mobilità leggera parliamo di come in montagna si stiano portando avanti politiche per la conservazione dei ghiacciai o meglio anche solo per studiare queste dinamiche che stanno cambiando e le persone immediatamente riescono a sentirle a sentirle proprio parliamo dei mestieri che si porta dietro anche il cambiamento climatico e come questi potrebbero cambiare il tuo qui e ora non nelle Nazioni Unite si è detto che perché se solo si comunica naturalmente una sfida globale solo giocando con il dato globale rischia tendenzialmente noi almeno la osserviamo rischia di essere una comunicazione alla fine un po' azzoppata e spesso e volentieri peraltro finisce per essere polarizzante perché sembra una comunicazione per intelligenti o intelligentoni ecco mi dai il dato complicato non so che cosa sta succedendo al ciclo polare artico ma io non ho studiato magari non ho il tempo per approfondire mi fai sentire scemo che è il primo grande rischio che si fa nella comunicazione di massa avere una comunicazione escludente con il cambiamento climatico questa è una cosa che si rischia di fare o meglio che tantissimi soggetti fanno spesso e volentieri tutti i giorni dimmi tu sono già andato oltre te l'hai dimenticato bene vuol dire che stava andando bene l'intervento e questo è sicuramente un grande rischio che non bisogna fare quando si tratta di cambiamento climatico bisogna in primis pensare alle persone che rischiano di essere tagliate fuori da quel dibattito non comunicare a chi è già convinto ultra convinto la sa memoria il report IPCC se lo legge ogni mattina mentre fa colazione no io devo pensare come diceva sempre il mio socio che ha fondato Will diceva io ogni mattina mi devo alzare lui viene da un paesino sotto la malpensa se io devo pensare come arrivare con la comunicazione di cambiamento climatico ai miei amici che facciamo un liceo sventurato sotto la malpensa che scaricano le valigie sotto la malpensa tu vagli a parlare del grado e mezzo in più ma loro ti ridono in faccia e io devo riuscire il mio successo aziendale sarà solo definito dalla misura in cui io riuscirò a portare ogni giorno almeno uno di questi dalla mia parte e se io vado con la bandiera belligerante di chi sa già tutto quelle persone lì rischio di tagliarle fuori e questo è il nostro modo di interpretare la comunicazione del cambiamento climatico grazie ancora per il tempo scusate sono attuali